Bentornati ragazzi, qui è FUNNSE Bisbomb e questo è il settimo episodio della Technic Pack Luke Pack e purtroppo siamo a corto dei materiali e quindi abbiamo dovuto decidere di andare in miniera davanti a voi ovviamente sì perché vogliamo fare i pannelli solari che così ci forniscono più energia e quindi ogni volta non bisogna metterci il carbone abbiamo dovuto prendere nello scorso episodio troppe cose da Transmulation Table per evitare di cuocere troppo sempre sì e quindi abbiamo deciso di fare questa cosa di andare in miniera insieme a voi vi abbiamo fatto vedere per la prima volta che dormiamo e vabbè mentre parliamo intanto e mi sa che torniamo nel punto in cui siamo morti sì ragazzi tanto si rimuore, me lo sento si torniamo nel punto in cui siamo morti con quegli scheletri 3-4 scheletri bastardi che mi hanno ucciso erano 3-4 ragazzi pericoloso però se non è si va a sinistra andiamo a sinistra andiamo a sinistra si può cadere così normalmente si va a sinistra ecco john creeper ma va la ma va la chi è questo buono ma che sta facendo il ballo e qualcosa ciao non mi viene addosso no ok ok ho fatto un salto grosso sperando di trovare anche qualche diamante no ah ragazzi dobbiamo fare il diamondrio oh già è vero mi ero scordato del diamondrio ragazzi è un aggeggio fighissimo no però prima ora facciamo ma io ero questo eh si di grande diamante oddio ok ah qui me lo ricordo si qua qua vediamo cosa c'è ok prendiamo il silenzio le torce le torce no ragazzi non mi ha portato le torce da quando siamo fuori le furbi e via furbi ragazzi ora non ci vedete niente sono sicuro vabbè prendiamo questo materiale comunque sono sicuro ragazzi non ci vedete niente andiamo a prendere del carbone ma con legno abbiamo siamo stupidi oddio ragazzi ah vabbè che culo le grotte costruite ah già ragazzi siamo fortunati prendiamo il legno da qua beh basta ok ragazzi non riesco a stanno a dire devo stanno a dire ma non riesco a stanno a dire quindi oddio è strano ok prendiamo questo carbone qui mi è passato spegniamo questo carbone non fischiare non fischiare non fischiare niente non fischiare ok ma fischiare ok ma fischiare fmich fmich non fischiare è finito ok ci facciamo le torch ci siamo a fare un bel po un bel 32 torch ok ci basta ci basta ci c'è la lava ok andiamo di qua il ferro ci serve assolutamente andiamo di qua come c'è una delle cose che ci serve di più il ferro più la migliorita importante per prendere il carbone qua si ricorda ora che dobbiamo fare i problemi di solari ci serviranno altri altri machine block re batteri batteri quindi anche acce debba anche il dobbiamo piantare più alberi della gomma ma andiamo a prendere gli alberi li prendiamo da trasmission table gli alberi della gomma giusto cioè c'è la resina che si può prendere la trasmission table vi ho messo la torcia apposta per voi perché ci vedo ok altro carbone prendiamo questa carbone questa rezza e poi andiamo mi sa nel punto che siamo morti perché ve l'ho detto ci andiamo stavolta senza morire appena vediamo qualche scritto ce ne scappiamo non combatteremo ragazzi poi volevo dire una cosa perché Niccolò non è che sta tutti i giorni a casa mia quindi noi facciamo tipo 5 6 no no 4 5 episodio alla volta ogni volta che lui viene quindi se voi magari ci dite qualcosa nei commenti non è che noi ve lo faremo proprio nel l'episodio dopo ma in gli episodi precedenti cerchiamo di farlo precedenti eh sì precedenti successivi oh guarda lì lascia un come che siano quelli non viene non viene manca me una slime no si slime ecco mongoloide si è suicidata un po mongoloide quello si è io ho visto qua si scende ah qua c'è già c'erano passati me lo ricordo qua pure si ragazzi cosa ha un topo oh figlio il topo mi ha droppato due semi che non è che ci facciamo oh vabbè basta eh torniamo un po' all'uscita di questa grotta che ora mi sono perso no esploriamo esploriamo ragazzi quando ci siamo andati infatti e infatti e non ci doveva mandare ok torniamo il ferro ci serve assolutamente prendiamo qua un po' di carbone ancora no il carbone basta sotto c'è il ferro il ferrico lo prendiamo allora ferro ferro qua prendiamo pure cristalli ragazzi che non li sto prendendo perchè sono stupido ok ok nei prossimi metà fra due uno dubito devo tornare su fare la cosa per la morte tamcraft la banda della magia ecco credo che sia questa l'uscita se non mi sbaglio se mi ricordo no qua qua dovrebbe stare qua vabbè è l'uscita sta lì buono mi ricordo non è l'uscita questa la mi sono perduto mi sono perduto e mi sto pure allontanando il suo contatto allora ho presa che questo risultato era molto molto lungo che siamo in miniera per un sacco di materiali infatti non è uno dei pistoli più belli che possono esistere vabbè abbiamo potuto vedere tanti siamo allargati lo scolto bisogna anche se con 17 minuti abbiamo fatto un po' di ragazzo oh mio dio ai gatti oh mio dio io voglio tornare a me inizio oro e parico questa volta non si è sbagliato non ha detto ferro no grazie nei episodi perchè non prendi ferro perchè mi sono arrivati ma se che si è ora e quindi questo che è mi ricordo ma che è filo ma quattro ok oddio mi sia incassato il cosa no 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 oddio ragazzi mi sono preso un colpo ma che non mi attaccava oh mio dio altro madonna che colpo che mi ha fatto prendo qualcosa la lucetta oh da però mamma mia sti cosa ok ragazzi qua blocco tutto perchè sennò l'acqua continua ad uscire ci rompe e ci vogliono 27 anni per fruttare il ferro almeno l'oro e l'oro porca miseria il ferro detto qui abbiamo trovato otto ore quindi che va corrispondono due diamanti due diamanti ragazzi allora qua un sacco di roba oh daffiro pure lo daffiro vale parecchio oh ragazzi è uno zombie un altro zombie qua c'è qualche spawn di rambi lascia l'alpona di ranni però l'abbiamo detto lo spawn cioè ci sono tanti zombie invece ma che cosa c'è c'è lo spawn e tirani ragazzi di solito quando gli sporco i ragni qua negli spawn c'è sempre qualche cesta dietro no sono stato infettato infettato c'è non so come c'è il veleno ragazzi mettiamo una bella lucetta sopra una bella lucetta se ci muoviamo e mono spawnate più bastardi di ragni ok ok ciao a dire oddio raga qua qua ci mettiamo gli anni no no ma qua si toglie veloce eccole qua le ceste ragazzi cosa troviamo nella prima cesta cosa si trova nella cesta eeeh 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 c'è pure un po' di pane qui dovremmo mettere una doccia perchè se non lo rompe è vero bravo ricordamelo quando non me lo ricordo io che qua ci arrivano qua cosa ci sta oh mamma mia ok qua pure non ci vede niente no ragazzi non sono convinto voglio andare a ricontrollare lì dove sono passato che c'è la spawn e di ragni si infatti c'era un altro no se andavi a destra c'era un'altra cosa ragazzi ci ritorniamo qua la lentezza andiamo un po' ok perfetto qua abbiamo preso tutto chi li pare con le luci quando e qua c'era qualcos'altro no? dall'altra parte c'era un altro spawn oh my god oh my god oh my god creeper o un creeper uno zombie è uno scheletro no che brutta fine che faccio ragazzi questo è potente poi state scherzando vero chi muore più qui guarda che muoio eh muoio ora muoio tarughe quasi ragazzi qua c'è uno spawn di zombie se mi arriva qualcuno da dietro sono fregato ah spiegati spiegati esplode guardate oh no no attraffanzata da io non dico quasi per l'accia è sponzata ok non è una storia bene e ci stanno altri su un ragazzo secondo me qua c'è qualche sponso di zombie qua la vengono gli zombie come pensi però come ero di arrede c'è un messo io ho visto gli occhi rossi odio che sono abbastanza anzi quando ha detto si sa che io ho ma che figata questi zombie troppano la roba sono i zombie con occhi rossi ragazzi ci troppano i cervelli il cervello che vale un botto nella moda della maggio ma veramente tanto ci mette in quei situmi ragazzi eh mamma metà che ci diamo perché sapevo che qui c'era tanta io voglio scoprire dove è sto spawn guardano creeper io ti consiglio di non farlo ma che bello no 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 voglio scoprire dove è sto coso sto spawn vuole morire perchè è fatto così che io abbiamo arreo grazie non so quanto o oro oro però diamantico quanto so quanti minuti stiamo a tanti 10 10 minuti 10 minutes che cacchia acqua qui cittano un altro qua città ecco siamo morti cosa ragazzi sì mi ha lasciato ma che è ma che cos'è ai 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 oddio raga no 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 vaffanculo vaffanculo ma che mi ha lasciato no non ci siamo capiti bene evviva abbiamo lasciato non è possibile non è possibile va no mi ha sciotta c'è il death point come vedete però mi rode mi ha lasciato ma che è quello con ragno riso almeno troviamo pure l'uscita perchè eh si l'uscita porca miseria oh tra il death point e l'uscita erano 30 metri 50 oh non ho più le scarpe quelle la che posso vedere da qualsiasi altezza che ne sono scordate ragazzi non vi posso mettere luci scusate non mi so apportato niente perché sono fatto si no muoio mi incazza e poi vado a prendere la roba così vabbè rarsi un poco male non è successo niente ma tu guardi d'intorno però non guarda d'intorno ma chiaro c'era la l'altra bella cesta enorme qua ora rimuoio eh sicuro mentre mi aspetta mi metto un po' le lucide anche io qua non ci vedo niente ok qua c'è altro materiale e lì guarda che c'è qua c'è la roba almeno non rischiamo ancora non rischiamo ancora magari se moriamo e non rischiamo eh no 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 non tantissimo prendi la spada forza mi prendo questo qui e questo qui e ricominciano e le torce le torce le torce ha ragione le torce ragazzi non è successo niente come avete visto c'è questo death point che è una cosa troppo figa ora facciamo qua ah come non lo sapete ma questo quasi fa con il tasto in cui c'è la virgola il punto e virgola quei points death point oppure remove qua e fate remove perfetto ecco si e si continua dove ah ragazzi si mentre la sto prendendo e sotto c'è pure la nicolite chi lo chiede utilissimo però non riesco a capire ancora come sono morto se ne avete visto se qualcuno c'era dietro non so si eccolo qua mamma mia che quello che mi ha fatto falso scheletro e quando vai vip ma questa è una scherza oh c'è un mattino che è allora qua qui c'è proprio una ah si sono messi d'accordo secondo me da tutti qua ecco una a destra una a sinistra e abbiamo fatto questa no non abbiamo fatto niente ragazzi c'è qua il pro di death ci sono altri però dov'è dove arrivano aperto eccolo qui il clipero su numerare una da sinistra con la sfiga che ho ma che si è buttato di sotto sto figlio ragazzi io non mi fido qua non mi vedo di niente mettiamoci un po di pane qua un po da mangiare ragazzi ragazzi ok io c'erano dove no 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 quello ok questo ok rubini poi voglio andare sotto per una paura di ecco porca puttana la cosa di topi topiche come cazzo roma che cacchio è stato come ho fatto ma che cavolo c'è son caduto sotto c'erano otto topiche per vedere sopra la otto topi otto topi manco 2 3 o 4 5 8 si 8 17 ok abbiamo rimesso oh mamma mia qua mi sento che cado dentro la lava io come sento che te fanno vedi dentro la lava vabbè mi fanno vedi dentro la lava ma mi cado dentro la lava la stessa cosa no no ma c'è cammino verso uscire non ancora non è uscita quella la veramente uscita dalla grotta quella la cristo e luna lo comandare no ma credo che era un'altra cosa e se era quella cosa no è una cosa che tipo rompe tutto non so come si chiama ma sarà quella cosa hanno fottuto la mia spada di nendi di rubino sta finendo sta metà circa e mori posto dopo sto mannaro non muore non so ok perfetto c'ho droppato le cose inutili però c'ho droppato qualcosa come quei stupidi mob i scheletri che ci troviamo uscita qua che culo dove no qua è dove è prima oddio ragazzi ma io mi guardo dentro queste gratte ecco eccolo qua è ancora riuscito ho trovato non è vero vabbè 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 andiamo scavamolo sotto sotto oddio perché scavarmi sotto i piedi è un'unità deficiente ok ok buona ora la pista la villa si va da un tantissimo nel numero si serve solo per farlo o la stile poco tanto ma tanto tanto dentro le transmutition table 56 mettila dentro dove me lo metto dove me lo metto sto scherzando si ho visto oro ragazzi contoro loro mi sa che lo vendiamo perchè non serviva niente cioè lo vendiamo nel transmutition table lo mettiamo e ci prendiamo un po' di diamantoni quanto materiale però episodio da miniera episodio da miniera questo oddio ragazzi questo qua perfetto dopo mi sa che mi ha preso faremo i pannati solari già l'ho detto non lo so si si l'abbiamo detto all'inizio del video poco ferro abbiamo vabbè il ferro ce lo prendiamo in lato ok scendiamo ancora sotto ecco qua ragazzi qua no ah oh my god ci siamo ricollegati oddio questa qua è la grotta qui è dove abbiamo trovato il primo diamante qui è dove abbiamo trovato un altro laglio questa è la grotta dell'inferno scusate ma qui c'era un una moto che pure con la final tra il video si è sentito non si sa come no la finestra aperta no ah beh se mi se mi ora e qui non già un po' io mettere dentro l'alchemic alba ora si mettiamo un po' dentro l'alchemic alba che è un po' di roba qui è dove ho trovato il primo diamante che è bello non c'è detto però mi piace dirlo mettiamo qua dentro questa roba accia c'è una robaccia in modo dire perché è una bella un po' di roba abbiamo trovato 20 di oro che si mettono 40 d'oro abbiamo ragazzi e prendiamo ragazzi stop un secondo che sta scurando il telefono scusate eccoci ragazzi sono stato al telefono prepariamo 2,3 secondi 2,3 secondi perché ha risposto subito mio padre mettiamoci un po' di cose da mangiare un po' diciamo un po' tante di cose da mangiare qui e qui c'è un ragno che ci aspetta questo tutto eccolo che bello grazie a meno che non ci one shotta come prima si rani one shotta non lo sapevo speravo che non lo sciottano più ok per fortuna che questo qua questo qua no 2 era isolato 2 di carbone così isolato strano le torce prendo le torce oh no fermi ragazzi non mi fido per stare con l'inventario aperto qui eh non mi fido quindi ci mettiamo qui eh le torce sono qui però prendiamo questo lo craftiamo tutto facciamo gli stick e eh ragazzi stop un secondo che c'è un problema eccoci tornati e è successo un po' un casino stavamo sistemando la tv improvviso no la via si dovrebbe dire il tv perchè vabbè la tv no il tv la televisione si sono rompe le palle e però abbiamo messo abbiamo messo così e mentre è arrivato uno scritto e ci stava massacrando ci ha cominciato a picchiare siamo arrivati con eravamo rimasti con tre ah con quattro cuori e abbiamo cominciato a picchiarlo con tutti i mezzi che avevamo eh alla fine ci ha droppato questo arco che culo ecco un altro che montaggio aiuto raga vabbè raga qui c'è uno spondito ah si e poi mi ero pure bloccato qui che non ricevo più storia che c'è stato cosa vabbè guarda dietro magari c'è qualcosa ecco infatti cosa succede si prova sto spadone power vabbè eh niente ma torniamo a casa no 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 ancora ma ragazzi questo episodio dove ne sa 30 minuti eh perché andiamo in miniera raga ancora in miniera vanna oh guarda 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 che non abbiamo trovato niente allora eh passiamo da un'altra parte no e c'è un l'altra volta che eravamo morti avevamo visto mi sono lo spondo di scheletri questi qua gli scheletri poi sono più sei più che tipo sparano da lontano quello pure avvicino eh sì da lontano però sono fatali fatale ok ci facciamo una spadona un'altra spadona e non lo uniamo per niente possiamo tutto nella cesta nella cesta nella cesta dell'alchemical certo non è baga bag sì mi sono sbagliato ammette gli errori e ragazzi credo che se noi prendiamo la frecce proviamo ad usarlo voglio provare ad usarlo diventerò abito no lo so che ho fatto da brutto con cinque frecce non c'è tanto io sono robinut però anche allora voglio provare subito a sparargli acqua all'ultimo zombie è la prima cosa che vedo tanto qua c'è sicuramente già qualcuno ha la frecce ok sette frecce abbiamo dai qua siamo morti tanto rimoriamo toto 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 oppure caputata alle due si non so in due da di più carrette miro faccia chat becci ma perché non me lo che stronzio perché non mi spara che è accia becci ma che cacchio oh one shot no buono buono non ho lasciato più ma che cazzo raga ho finito le frecce ecco perché non mi sparavano non mi spara più oh ho un altro un altro arco oh mio dio questi qua troppo un archi a buffo però non abbia più le frecce e quindi ci attacchiamo aiuto mi è entrato mi è entrato oh oh ovvio not al buio not al buio scusate ragazzi mi ha rotto una torcia vabbè dobbiamo arrivare in miniera però da qui non possiamo ok mi sa che qui esistono spawned dischetti quasi al 100 quasi al 100% ok proviamo ad ad io credo oh ma che cacchio c'è amore a me sparano così sì non ci stanno preghe ho ho finito l'arco allora quindi facciamo il giretto e lì gli facciamo secchi non è vero loro ci fanno secchi ah beh sono un po' sono un po' più attrezzato all'altra volta che l'altra volta ero solo con che ero manco c'avevo la spada sì c'è una spada del legno sono stato un passo nel secondo episodio andare qui ma stiamo matti eh beh raga qui c'è uno sponno ma proprio che mi sono sponni qui abbiamo capito quindi stiamo andando allora eh ma stiamo facendo un video si ancora mia madre allora cioè stavolta mia madre prima rinnovate ecco stiamo a morire ragazzi abbiamo tre cuori scappa via scappa via scappa via scappa via scappa via e ci siamo salvezzi aspettavo arrivano ha detto l'ultima parola faccio non è detto l'ultima parola abbiamo un cuore ok allora ci mangiamo un po' di pane e ora aspettiamo qua che ci si ricarica la vita dove vogliamo andare ecco abbiamo ripreso la vita ora si riparte il mio amico mi suggerisce di andare sopra perché non stiamo prendendo più materiali secondo lui però secondo me però secondo me è vero perché ci stanno sti qua che scorsi chi di qua che ti frega no ma cosa chiudo oddio ragazzi oddio c'è pure lo slim oh my god un attimo a scelta ma perché mi devono scuola guarda che ciccione non ci passa no ciccione vabbè lui è io sono giocione io sono john rambo e quindi vuole morire perché sicuramente lo ammazzeranno è certo che mi ammazzano che non lo sai ecco qua mi hanno fatto mi hanno fetch no sai dov'è lo spawn sono convinto oh cacchio oh con l'arco io li meno con l'arco oh c'abbiamo quattro ma quanti vabbè sto prendendo un po' di punti esperienza oh ma che si sono ucciso a vicenda oh my god che fail si uccidono gli scherzi siamo 4 4 3 4 4 vai uccido questo è che uccidiamo non è vero non è vero non è vero dai siamo qui ok secondo me voglio fare una cosa ora una cosa ragazzi che culo ma che culo ragazzi che culo oh chiudio ma che culo chiudi ecco eh noi non stiamo trovando più materiale che arrivano da lì arrivano ti ho detto e credo mica mi possono uccidere da qui eh no ti guardano certo so bello oh my god mi auguro dove stanno andando no non lo so no perché muove la gamma che cazzo c'hai c'ha paura no no aiutanoa naf ancora troppo brutto via via vie ma allora vabbè io voglio morire perché c'erano due passaggi stiamo morendo ma si ma sto giocando bene allora attivo se una vostra spada con questo ok ma perché c'era tutta la vita quell'altro no non c'è tutta la vita no era un po in marcia e la marcia ecco lì ecco la sport porca puttana moglie distruggono scone e abbaffanculo a tutti gli scheletri che abbiamo che manucci che mi hanno vaffanculo vaffanculo ho distrutto lo sport e ragazzi è la proprietà di defuse che via che ero no è la nostra vita e stiamo andando lol ma che è un simone con gli scheletri noi troviamo dentro altri altri modi per voi la piccola ma regola arriva nato oh my god ma sono tutti io io ho toccato la lava io sono un oro guarda 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 scuola di oggi ho tanto area troppo ora e mettiamo tutto con la chemical bug e qui non c'è luce la volta puttana che paura qualche 2 arriva se scappa quasi e scappa non ci scappa ma mi so preso un colpo però è pure infatti quello mi ha fatto bianco a me perché ha fatto che arrivano io ha fatto un salto lol e ma non è che faccio tanti perché sommato no perché a me viene l'ansia anzi e bene diamantoni ragazzi 24 che sarebbero 48 di oro 48 di oro diviso 4 12 diamantoni che fico 12 mantoni allo matematico ma è 48 di 24 e poi io allora per lui che abbiamo rimandato in matematica non è arrivata 5 e mezzo secondo voi glielo alzano secondo me domani abbiamo quadri a oh my god e domani sarebbe il 19 perché il 18 vedete quando caricheremo questo video meno 8 cosa 20 giorni no fra buono so si cazzo non lo vedi così perché voi non ci capisco di una mazza ok vi dico solo caggia il 18 stiamo facendo questo video come me lo so si dove prima o poi si trovi ne fanno cade dentro la nata o guarda qua tu sei notte come a funzionare ci gioco riconosco che sono ragazzi due diamanti altri ragazzi errati era solo era quando è da solo ragazze tu disegno ecco guarda che che cacchio e fa le azioni da proprio e si prende tutti i casi anche ok ragazzi erano senza gli scheriti credo se un po meglio la situazione senza schede di qua si stava proprio qua è tutta la vera o dire siamo chiusi intrappolati non è vero ne fu un essere trovato siamo usciti dove dove ci eravamo nascosti si o no arrivano scritto mi butto dentro la vai paura ma la scheda non ci vuoi essere eh sì però mi so che vengono da qualche altra parte e c'è ragazzi che non mi piace è brutto da vedere è brutto da prendere non è vero sì è uranino comunque credo ma perché ho avuto tutto la ma sopra c'è tutta la lava ma dove stavamo tutto la vostra siamo sotto un volcato l'acqua veramente non è vero e no guarda l'acqua oggi raga c'è l'acqua però sotto c'è la lava e ma quanta mortacci dove spande o ancora qua sicuramente c'è sto qualche passato questi sono le tra le trappole degli scheletri e ci volevano uccidere eccole qua poi ragazzi guarda che figli dungeon c'è un erbetta sotto questo è il fatto no che sono sono i grottoni questo è il posto migliore dove prendere materiali sì sì è assoluto e che palle ultima e stiamo circa altri cinque minuti no ma che scherzi saremo il 30 30 30 e 40 ragazzi questo episodio lo faremo molto molto lungo ma ragazzi ora metto in pausa che mi sa che bisogna che dobbiamo andare a mangiare ok verrà poi eccoci tornati dopo cena e ora continuiamo a prendere i materiali e questo episodio molto lungo 30 minuti siamo e infatti non so quanto ci metterà come titolo comunque metteremo nessuno di guardare tutto questo episodio come titolo metteremo sì c'è un amico che si riguarda tutti i mini aereo è un mio caro amico che sulla play e gioco anche su ps3 si chiama xif vl simpatico nel clan di raptor raptor quello la che è il canale con 10.000 11.000 iscritti abbastanza famosa o direi amo con la gravel ma si è un'altra cosa per rinnovare lo so che da tutto anche se deve non tenere del risultato di vedere tutti perché è un tempo per tutto il mio amico per si risolva io ho trovato tantissimi materiali c'è soprattutto diamanti ormai no loro come era ora che ho trovato tanto però non ci sono gli avanti ragazzi siamo accorti di mangiunghi ok non si questa è una inquadratura sbagliata vedi male no la prana non c'è io voglio pochia la piscina cd as non la piscina va bene ragazzi andiamo avanti no niente a passiamo qui che l'acqua mio per cazzo non ho un altro è visto un periodo l'acqua ma no andiamo un po' avanti cerchiamo un posto di materiali importanti oltre li dobbiamo trovare per una persona che sollecente oriocamica miseria che paura accio ci ha aiutato ecco il bandec ragazzi tappi ho fatto pieno infarto anche se hanno urlato tanto di cosa è preso un sacco di paura ok allora mi ha provato a me mi ha fatto a te scudere eh ti caghi sotto quando vedi creeper oh vuoi visto? eh si è fatta una scala ragazzi vi faccio vedere un trucchetto mi sa che non ho fatto vedere allora aspetta va vi faccio vedere che è utile allora ve lo dovrei far vedere all'inizio del video infatti mi sa che lo faccio vedere anche all'inizio del prossimo episodio perché non so se qualcuno ci arriva fino a qui allora metto la grave no ragazzi qui sopra c'è la lava guardate eh guardate che fail che faccio non c'è la lava bene ah facciamo così? basta può bastare e distruggiamo la grava ecco fatte ragazzi bel trucchetto no? mettendo la torcia si rompe distruggiamo la la gravel con la torcia e ci si mette la torcia sotto e si rompe tutto l'ho scoperto da un mio amico ho visto il suo video questo no 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 passiamo qua per l'acqua mamma si quasi basta e ma come parco puttana ma spavamo no e' un bambino mangio questo ecco la ricca 4 no poi dentro l'acqua ma che è brutto un bambino e' qualche cosa c'è stato aspetta un secondo per morire ma chi mare che mare io muoio ciao con due cuori e mezzo beh ora ci mettiamo sto pane ce lo mangiamo allora ma stavo dicendo chi sta quanto mi ci metto uploadarlo su youtube quanto avevo fatto un calcolo quello di ieri mi lasciava messo un'ora e 40 mi ci metteva ho fatto tutti i miei calcoli questo qua ed era di 20 minuti questo qua lo faremo 40 50 minuti ci metterà 3 ore eh si quello è tutto senore sicuro no è tutto senore oh 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 porca eee volevi uccidermi eh mi volevi uccidermi conna andiamo alberto basta che ci muoviamo mettiamo le torce no io voglio guardare la giurista no arrivano che c'è di qua arrivano cosa arriva arriva uno ho visto che uscireva dall'altra parte che c'era no 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 questo hai chiamato no hai chiamato io continuo a dire che ci farò da dietro dillo che avevi già esplorato tutto il mondo e sai dove stanno tutti i materiali dillo dillo eh si è esplorato e ti sei imparato il mondo a memoria oh che è quello qui ora travi ma perchè ti chiamati sotto ogni volta mi ho appena tremato addosso allora che è questa roba oh 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 mianto oh eh ah no no ah no vedi eh lì già esplorato il mondo oddio eh si è chiusa la strada questa è un'altra trappola la dovevo questo qua ci vuole un cd ragazzi ecco qui il mio trucchetto ho per uno va a fa' puro buono si se prenderanno il diamante facendo con le torcette epico epi queen capire che cacchia non c'è parte simicida fatta TED 150 tutta c'e puedo vuole tantissimo quindi ho già pochi e me dalla dol Architecte tro Whitney pra mamma quasi twin dico corrections portrima avete visto nel rumore addosso ma scriviamo e quante persone su scatto che si sono connessi non so se vuoi vedere skype che mi si connettono le persone 1 credo di no credo di niente veramente 2 non connessi 1 no 3 no anche c'è qualcosa non tutti o mamma mia sto costa nicolini mi sembra ogni volta io e mi sembra diamante sicuramente si passa di qua ok ho visto un'ombra trovo un diamante e poi c'è bene finisce l'episodio non so non so se non 40 a questo tutto concorso il nico faccio sempre tutto il senato il senato e questo è tutto il senso un po' di coppia che lo stiamo da scurando ma sto coppia cestia o che siamo via comando oviani o mio dio oggi devo ristorante non diremo che ma perché ti devi scusare il telefono non è il telefono ma che è ho un film o il copyright davvero eh sì ma che è e perché da partita che palle c'è un nostro amico che mi accogli chiama per dire e mi dice ehm alla fine della partita dimmi cioè ogni volta che senti mandami un messaggio perché c'è Italia e Irlanda mandami un messaggio perché io non posso vederla non sto a casa lui sta in chiesa ogni 5 minuti ogni 5 minuti mi scrive ma ancora 0,0 ancora 0,0 sta in chiesa e sta col telefono ma che c'è affare ma si è un mongoloide sta in chiesa non ho capito se stava in chiesa se andava al ristorante mambo no mi dice che sta in chiesa per andare al ristorante mi metto più a 1,0 io non c'ho soldi non mi posso rispondere quindi hai detto che gli viene i messaggi vabbè allora non gli foto un cazzo lo so ti racconta la storiella ragazzi vi racconta la storiella aspetta fatemi pensare ecco prima che andiamo a dire la storiella no, 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 no 248 una barzelletta una barzelletta una barzella ma io diamanti è c'è davanti era ora via ora a perchè ore si avuta ma ho detto ma che mi ha fatto ancora e io so pure dove sono si ma perché tu era moriamo io ma si ma non è possibile a ora moriamo e il pc nel fantasma dietro qualche modo il fantasma che sape l'uomo e che chicca mamma non ho messo di con i serpenti per pinto con terra 3 mila metri siamo al livello al livello al livello quanto abbiamo più di un nuovo fatto se il screenshot siamo a livello f il livello poi c'è un bo f2 f2 e il gioco e quindi massimo f2 ha detto f2 si mette con f2 si mette mirolo per l'eva è una vecchia per il maona fede veramente f2 foto appena riferito odio ed è che ho fatto tre volte se il screenshot tommi confondo 1 ragazzi chi può aggiungermi su skype sono the funes ragazzi metto un secondo in pausa che c'è qualcuno che mi sta bussando alla porta il mio nonno aspettate ed è uno zero per l'italia forza italia dai oh my god dai pure il diamante oh my god italia che segno in diretta in diretta in diretta ora quando metteremo il video non sarà più in diretta saranno due settimane dopo ok ci dobbiamo portare avanti ragazzi quindi comunque in italia abbiamo appena trovato voi sapete già come sarà andata a finire noi invece siamo qua stiamo soffrendo eh sì allora oh diiii ma che è stato oh ma che cura no ma che cura ma che cura quanti oddio quanti quanti diamanti oh che c'era giù oddio oh che cazzo cazzo come volta a vederelo ma che cazzo oh mio dio ma dove cazzo siamo avveniti ragazzi questa oh e lì mi pare che ci sia uno spawn di qualcosa eh lì lì ci sta per forza qualche spawn non mi piace tanto metti tutto l'alba oh undici diamanti undici diamanti oh mai oh ragazzi ma ci sono stato dentro eh ragazzi abbiamo 14 cittadanti abbiamo trovato dimmi è una città abbastanza prosperosa oh pure felice che ha segnato l'italia almeno quello no eh sì l'Italia no oh io ho ancora visto il gol eh neanche io ho capito che che attraversa la riga oh perché stavamo giocando appunto abbiamo messo in posa perché non è perché ha segnato l'Italia perché mia moglie è entrata e casualmente sono arrivato di là è segnato l'Italia è segnato l'Italia e oggi si è capito allora è fortunato ok perfetto ho preso tutto ora proviamo ad andare qui anche se secondo me guardo in là ci si inchiappettano infatti mettiamo un po' tutto dentro perché 39 per 2 quanto fa? 9 18 70 no oh 78 78 my god 78 diviso 4 ragazzi fa quasi 20 19 e ha un solo 2 e quindi abbiamo non so un po' di domani un po' di domani guarda 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 ragazzi andiamo lì dentro nel cosa cos'è oh no 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 sicura sicura oh no 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 il mio lapisla su lì no no non mi piace passiamo da qui io c'ho una oddio quanto c'ho una paura a cagna ecco ma fa culo che cazzo ah questo ci si inchiappetta no questo ci si inchiappetta no questo ci si inchiappetta no questo ci si inchiappetta oddio no ho subito scavato sono subito entrato nella stanza in cui c'è sta il reo che cacchio è oddio ma che è ma questo è un fantasma ragazzi io lo butto dentro la a me non mi fa lotto una minchia a mare? finocchio sei morto zuka the best player in the world oh vaffanculo puro oh no sai qua quante esperienze mi faccio e quanto quanto cibo mi faccio la carne a marcia si è il mio cibo no e la madosca come facciamo? ragazzi è difficile entrare qui dentro almeno no 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 non ci siamo capiti bene metti la luce devo entrare con le torce devo bloccare lo spawn oleee bloccato dei spawn fucking spawn no no aspetta ah si rompio? no 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 sempre meglio tenere uno spawn come orca miseria ho visto una cesta ma qui ragazzi mi sa che è meglio che qua allora non so ah ma abbiamo trovato sto coso no no perché due perché due oh cazzo mi hai visto? one shot mi hai tolto hai visto quanto cazzola di vita mi hai tolto? con una botta oh mio dio con una botta ma che bene ragazzi non è tanto bene vediamo quanto siamo oh la madosca c'è quanto quasi ma che cacchio no ma che è là c'è un altro spawn di zombie no no guarda che siamo arrivati dietro quello madonna madonna lo devo bloccare lo devo bloccare va 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 oh eh non gioco call of duty eh nemici stanno spawnando i nemici davanti i nemici sì io gioco a call of duty oh guarda là eh ma è una paura di entrare lì dentro oh oh io non l'hai visto no ero troppo concentrato ero troppo concentrato ma quanti spawni dei zombie ce so ero troppo oddio oh porca puttana mi fai prendere i colpi de mica lo zombie ma dove sono usciti quel tipo oh my god io uscirei non so a voi meglio che ci diamo no ma dove cazzo non escono ma escono là ce lo spawn è stupito però lo dovremmo aver bloccato rompilo ora dovrebbe essere bloccata ma guarda che ora mi si spune un'altra io lo faccio un secondo così bloccato puttana ora lo distruggo appena eh ma what the fuck ma cos'è oh ma qua pure non ci sta lo spawn si spune tutto qui guarda che è distrutto lo spawn ragazzi mi devo fare un'altra spada mi devo fare un'altra piccosa pure un po' ma tu muore oh non muore ma quel mostro lì che stava dentro quel castello coraci ritorniamo o porca miseria prega quanto dura ma non lo possiamo pensare no altri zombie non muore mai un po' e stammarli come ok perfetto secondo me c'è stato che ci sta andato sbonna torniamo un po' lì era qui no ma ci vado il culo si era qui proprio per qua ecco da dove uscire no ma che ma le luci no basta ok torniamo qui dentro senza crepare quella c'è one shot no madonna vieni te lo butto dentro la lava buohoho cioè questi hanno una spada di legno mi danno un colpo e mi tolgono otto cuori ma che è che è mafia morto no non è morto niente si è molto ferito eh però non è morto eh mi ha dato così poca vita cioè così poca oh e vieni io so furbo eh mica mica so stupido ragazzi che fortuna che sto costellando qua che culo è molto duro questo episodio oh 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 oddio no 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 sono morto puttana perché ho detto che sono morto vabbè va andiamo a prenderci la tab siamo morti due episodi se non ero due episodi sono morto due volte due episodi se non ero ooooh dormiamo niente ormai c'è un nome ok e anche se sarà molto difficile andare fino all'inizio perché abbiamo fatto un sacco di strada e poi non mi so portato niente da quanto sono mongolaide niente guarda guarda qua qua si trova subito qualcuno che tipo ci si è in culacchia dove è il death point death point lì quanti rimani? qua sta una scherza 250 250 oddio quanto stavamo lontani ora ragazzi arriva al departamento che va bene non siamo insieme poi non vi fide grazie va 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 tutta tutta dritto tutto dritto no no eva oh che culo c'è l'acqua ma dove cacchio ero passato vabbè va passiamo qui ci mettoci lo so ho fatto una cazzata son poco stupido sono un ragazzo stupido i giochi in casa ma perché sono così stupido i giochi in casa porca eva perché ho sopporto abbiamo perso tutto no abbiamo vero vabbè abbiamo perso tutto nella seconda morte non c'è niente non c'è niente eh state giù vabbè va non c'è niente di che però però non ci dobbiamo muovere perché stiamo a 50 minuti non è che stiamo a 50 minuti non è che stiamo a 50 minuti che poi ci stiamo fregata il tempo voi vi guardate tutto il video quindi eh non è che stiamo a 50 minuti e che poi ci spariscono le robe oh cazzo eh guarda che frocio che sono ho perso già mezza vita ma no la cosa è che ci avevamo pure gli stivali piedi allora e tanto quando riesco a passare togliamo il primo del point del point che abbiamo fatto cinque secondi fa no si fa qua quei points qual è questo? no questo qui ok 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 devo fare per forza così lo so ci metterò ci metterò gli anni però e infatti ci sto metto 57 anni ah che culo io non sono poveretto lascio la la clay no che la come mi si arriva? la gravel quando hai 190 ma non hai cosa? è lontano no si siamo stati qua quanto siamo? 150 quel bastardo c'è uno inshot c'è quello latino inshot non è giusto non è qua c'è poi lui c'aveva pure la spada di di metalo cioè di ferro io c'aveva la spada di rubini no io c'avevo la spada di rubini e lui di quell'altro e lui mi ha ucciso ma che è? lui di ferro e mi ha ucciso non è giusto ok di qua non deve stare bene proprio che abbiamo fatto noi me ne ricordo si me lo ricordo siamo basso di qui proprio no non so però si è proprio qui dentro oddio e ora dove passiamo? no non siamo passati per niente qui dentro oh se non ci muoviamo ma ci spariscono le cose e poi mi incazzolo veramente ebbè non ce ne voglio no ce la moglie amanti fuori la cesta non dentro l'alchemical bug quindi non però credo che ci vuole un po' prima che che se ne vada quindi ci muoviamo che siamo a quanti metri? 70 arriva lì ah quasi speriamo che non ci stava ancora quel mostro lì che sta fuori eccoci qui nooo oddio muoio se muoio ti giuro non ammazzo guarda l'omino che brucia basta basta oddio no ma che crepo porca miseria maiala ecco la mia roba ok ok diamante qui no beh nicolit nicolit no come passo qui dove ero passato? dove ero passato? mi dai nervi vedere la mia roba che non la posso prendere muoio muoio pure qualcuno puttana maiala no 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 non è vero no no mi stanno piando per il culo mi sta un senso per la mia roba non è possibile si sta in silenzio per la mia roba e vaffanculo muoio 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 uccidici tanto mai che famo fanno fatti uccidere andiamo a casa almeno no ma mi vado a butta dentro sta cazzo di lava vaffanculo ragazzi finisce qua il video no la raga aspetta no no finisce qua il video tanto che avevamo avevamo due diamanti vaffan no ma come è possibile me lo dovete dire mi spai io faccio mi dai nervi vedere le robe non la posso prendere va bene comunque e mi sparisce davanti finisce qua il video no non finisce stiamo a 80mila minuti non finisce ora quanto stiamo oh dove vai ora c'è un po' di questo e ci rifacciamo la chemical bug che stavo scherzando voglio vedere la roba che ho messo dentro la roba che ho perso avevamo perso 3 diamanti mi sa sono sicuro però la piccozza di ah era quasi finita comunque la piccozza di diamante la copa del dust la copa del dust la chemical chest questa come si fa con tutte le ok diamanti porca puttana quanto dura sto episodio non lo so ma non mi prega niente ce ne avevo tanto tanto eh ce ne avevo tanto tanto di cosa eccole le altre due cosa le altre due colori non riesco ah dove di qua ah dove eccoli oh che stai facendo questi servono ma io sto cercando una cosa per fare del legno per fare la cesta ok ok allora cioè sto qui questo qui mannaggia che sfiga no quello è l'ultimo ah che cazzo ok serve due ma vaffanci no sono incazzato con me stesso quanto stiamo ecco finisco qua ci rifacciamo vediamo la roba e basta non possiamo tagliarle in due tagliarle in due parti mh perchè perchè è dura 50 minuti ma che ci frega dai quanto dura ragazzi ragazzi l'episodio di un'ora l'episodio di un'ora ragazzi epic epic dai lo facciamo da un'ora esatta ma a questo punto che cacchio facciamo un'ora sai quanto ci ha caricato eh che ci ha caricato dato che nessuno arriverà a questo punto vabbè fai conto che luca l'ha fatto di due ore io l'ho visto no mamma mia abbiamo pure tempo così eh non troviamo niente da bruciare mi dà fastidio no che sono morto perchè perchè com'è che sono morto eh ti ha ucciso ma mi hanno shotato quello strozzo tu te ne cerchi però che me ne cerco ok andiamo andiamo e muori non ha shotato quello stronzo ok perfetto perfetto no corn eccola e ora com'è che si faceva così mhm e poi sono tre queste blu puttana ecco quale la seconda chemical bug che sarebbe la quattordine mantoni ci sono rimasti vabbè quattordici davanti il tour che glielo insegnano ok io lo vendiamo così ci prendiamo due diamantoni ma ci abbiamo una cifra d'oro 39 di oro ragazzi ok allora ragazzi ora vi faccio vedere il sole il panel eccetera e questo è il sesto episodio qui da te fosse bisbomb è tutto e ciao a tutti Grazie a tutti.